Dopo aver individuato il mercato, aver capito in base alla location qual è il software da utilizzare, perché dico in base alla location? Perché se io vado, torniamo a parlare di città, se io vado a Milano e a Milano utilizzano tutti i Maya, userò Maya. Se vado a Roma e utilizzano tutti i 3DX Max, vado e utilizzo 3DX Max. Se vado in Singapore e magari utilizzano Blender, allora imparerò Blender. Quindi capire il software, capire la location e il software che utilizzano, oltre anche al determinato settore, perché ovviamente magari nel settore architettonico a Milano utilizzano Revit e a Roma utilizzano AutoCAD. Quindi sono due mondi dello stesso settore, ma due cose diverse, quindi bisogna un po' capire anche quello. Ho un amico, per esempio, Livornese, che lui non voleva imparare AutoCAD e fino a 36 anni non ha imparato AutoCAD e dopo ha dovuto imparare AutoCAD per poter accedere a dei lavori che prima non poteva fare. Ad ogni modo, secondo me, quello che c'è da fare è crearsi una reputazione. Oggi crearsi una reputazione con internet è semplicissimo ed è molto veloce, come è molto veloce anche perdere totalmente questa reputazione. Cosa voglio dire? Cosa intendo io? Crearsi una reputazione vuol dire che, oltre ai social network, lo dico anche per i giovani, esistono i forum. I forum a volte sono dei posti dove ci sono i dinosauri come me che frequentano ancora i forum, dove però si possono trovare tante informazioni. Oltre a trovare tante informazioni, magari uno può trovare anche la possibilità di creare, per esempio, un VIP, oppure un work in progress. Non un VIP, ma un work in progress. La possibilità anche magari di creare dei tutorial, la possibilità magari di creare anche altri contenuti, anche dei modelli, e metterli a scaricare gratuitamente oppure anche a pagamento. È logico che creandosi una reputazione con mostrando i propri lavori, quindi quando però si mostrano i propri lavori in pubblico, che sia un social network, che sia un forum, o sia anche semplicemente tramite mail a una persona, bisogna innanzitutto mettersi in uno stato d'animo di poter accettare la critica, ovviamente se costruttiva, perché se io ricevo una mail di un lavoro e dico fa cagare, senza dare motivazione, quindi senza spiegare perché fa cagare, è logico che non è una critica costruttiva. Se però dico, questo modello secondo me non va bene in questi punti, perché qui hai dei problemi di topologia, eccetera, eccetera, quindi spiegando tutto il perché, allora quella è una critica costruttiva. È una critica che ti aiuta a capire come poter migliorare al meglio quel determinato elemento. Quindi la si deve comunque accettare. La si deve accettare anche quando ti dicono che fa cagare il modello che hai fatto. Dico il modello, potrebbe essere il render, potrebbe essere l'effetto, potrebbe essere qualsiasi cosa che tu vai a produrre. Ovviamente uno non è che deve rispondere subito con una parolaccia e poi dopo andare a spiegare perché lui secondo te non fa così schifo. Magari uno può dire in maniera molto educata, cercare di farsi spiegare perché secondo questa persona il modello non va bene. Parliamo di modello, ma come sempre si può parlare anche di qualcos'altro. È molto più facile, secondo me, criticare buttando così un commento brutale ed è molto più difficile con l'educazione cercare di farsi spiegare perché. A volte chi magari lancia un commento brutale è una persona che poi dopo cerca un po' la rissa virtuale, ok? Perché comunque dalle tastiere siamo tutti bravi, però poi di persona o al telefono, e ne ho le prove, non siamo tutti così bravi ad essere forti, nel senso non sappiamo molto come reagire. Quindi c'è quell'arroganza che ci aiuta lo schermo, e adesso gli schermi sono quelli dei cellulari, a nasconderci dietro questi schermi, si va un po' a perdere quando magari invece siamo in contatto diretto. E secondo me bisogna sempre comunque mantenere una sorta di educazione, una sorta di dialogo costruttivo proprio per capire meglio come fare le varie, come poter evolversi. E quindi creandosi questa sorta di reputazione anche tramite dei forum internazionali, si ha la possibilità di avere un minimo, dico veramente un minimo di notorietà. Quando non c'erano i social network, non mi sembra di parlare come mio nonno, c'erano i siti internet. Io fino al 2011 non ho mai dovuto spedire un curriculum, perché appunto tramite un sito internet, se andavo online su Google, cercavo Matteo Migliorini, veniva fuori il mio sito come primo risultato. Oggi invece i primi risultati, se anche vi cercate voi stessi, quello che viene fuori magari sono o il Facebook, se ce l'avete, o comunque qualche vostro omonimo ci sarà nel mondo che avrà il vostro stesso nome e cognome, e quindi magari viene fuori la pagina con i profili di Facebook, di Twitter, di LinkedIn e così via. Quindi è buono secondo me innanzitutto cercare anche di investire un po' sui social network, però bisogna investire senza pensare che un social network, quindi un Facebook, sia un sito internet. Questo è un grandissimo problema, specialmente quando si va a creare la struttura. Quando si va a creare la struttura, non è che io mi affido a un professionista che ha una pagina di Facebook e non ha un sito internet. Io sarò vecchio stampo, sarò vecchio stile, sarò un dinosauro su queste cose qui, ma non credo che un profilo di Facebook possa essere utile per poter avere comunque del lavoro. Nel senso, un profilo di Facebook a me non dà la sicurezza di poter affidare poi un lavoro a una persona. Ovviamente ci sono casi e casi, però non credo che sia la via più giusta, specialmente quando magari ti devi presentare e vuoi fare un pochino il passaggio, vuoi un pochino fare lo step superiore, passare di livello. Quando vuoi passare di livello, non ti puoi affidare a un social network per poter passare di livello. Quindi, secondo me, bisogna avere anche un sito internet. Poi un sito internet può essere semplicemente una pagina in bianco con scritto salve io faccio tappi per le orecchie, per esempio, li faccio benissimo, questo è il mio prodotto. Basta. Quindi, non è che bisogna lavorarci un monte. Poi, ci sono una marea di altri discorsi sull'immagine, sulla grafica che bisogna ottenere, bisogna avere. Ma, questi sono discorsi comunque futuri. L'altro aspetto importante è come impostare il proprio curriculum, il proprio portfoglio e il proprio reel. Allora, il curriculum, io sono un bastion contrario ai curriculum, onestamente, nel senso che i curriculum che spesso si fanno, che comunque tutti avranno fatto almeno una volta nella vita, è il curriculum in formato europeo, che è una fesseria immensa. È una fesseria immensa perché il curriculum spesso è un modello che è scaricato da internet e magari ha all'interno delle parole che chi fa o chi ha fatto un minimo di risorse umane e riconosce subito che sono parole prese da altre parti e messe di dentro, che magari non fanno parte realmente di voi stessi. Io vengo da un mondo, prima di studiare, io ho studiato design, come ho studiato anche economia, quindi ho studiato un minimo di economia perché mio padre voleva che io andassi a lavorare in banca da lui. Ad ogni modo, quando io nel curriculum, di miei coetani che hanno fatto design e che quando io lavoravo già in alcune società di computer grafica mi arrivavano questi curriculum da parte loro che tra l'altro cercavano un lavoro come renderisti perché non riuscivano a trovare il lavoro come designer, mi arrivavano con scritto scrittura creativa e quando lo leggi per dieci volte capisci che quel curriculum è una copia di altri. cioè non ha senso avere un curriculum che ha quelle paroline magiche che è impostato uguale. Sei un creativo? Allora fai un curriculum creativo, cioè non schematizzato con il logo dell'Unione Europea, con tutta la foto. La foto, io quando sono venuto qua in Danimarca mi sono accorto subito che il curriculum non lo guardano, lo cestinano, danno magari un attimo un'occhiata a dove hai lavorato, ma onestamente è assolutamente una cosa un po' particolare. Dico che è un po' particolare perché logicamente ci sono delle regole sulle quali bisogna un attimino sottostare, bisogna un attimino anche far parte di questo gioco. Questo gioco vuol dire che se per esempio noi stiamo in Italia, è naturale che in Italia ci chiederanno il curriculum europeo ed è naturale che dobbiamo scriverci che patente di guida abbiamo, il nostro livello di inglese, il nostro livello di francese, quanto siamo usciti dalle superiori e così via. Quindi sono delle piccole regolette che dobbiamo sicuramente rispettare, dobbiamo sicuramente inserire. Però se per esempio siamo dei grafici, parlo così, sono un grafico 2D, è inutile fare un curriculum del genere perché se io cerco un grafico che mi faccia impaginazioni e mi arriva un curriculum fatto con Word, perché solitamente il formato che si può scaricare è un formato di Word, cioè è un po' imbarazzante, è un po'... mi fa capire che questa persona o è una persona che si può adattare alle situazioni oppure è una persona che non ha quella creatività che mi sta cercando di vendere, ok? Se invece io sono uno che vuole fare impaginazione, allora magari faccio un mio modello molto particolare e glielo mando. E magari ho la fortuna tra 10, 15, 20, 100 curriculum di essere notato solo perché magari è un formato quadrato con due righe invece di quelli che sono tutti rettangolari con il loghetto, con la foto e con la stessa identica tipologia di stampa. Quindi capire anche questo. Come capire anche il portfoglio? Il portfoglio... Bisogna fare dei portfogli, per esempio, se lavoriamo nel settore architettonico, parlo di quello che forse è maggiormente in giro per l'Italia. È inutile fare un portfoglio con delle immagini fatte seguendo un tutorial. È ridicolo. È ridicolo andare a prendere un tutorial e farlo passo passo e poi postare l'immagine nel proprio portfoglio. È una cosa stupida. Perché? Perché magari 5, 10, 20 anni fa non c'era nessuno che leggeva online. Internet non era così alla merce di tutti e quindi era più difficile scoprire se quell'immagine era fatta da un tutorial oppure no. Oggi invece vi può capitare che chi guarda quell'immagine vi possa dire quello è il mio tutorial. Quello io l'ho fatto anch'io quello è del mio amico Tizio Caio Sempronio quindi bisogna cercare di essere originali. Quando si studia un tutorial e questo su questo io sono molto insistente non si studia per realizzare il tutorial allo stesso identico modo ma si studia per apprendere la tecnica e applicarla successivamente alle nostre necessità. Quindi questo vale sia per il portfoglio sia per il reel. quando io vado a creare qualcosa deve essere originale originale nella mia lettura nella mia testa e deve contenere dei concetti che io ho appreso magari studiando qualcosa precedentemente. Qualche anno fa andava molto di moda riprendere le immagini dei cataloghi per esempio dell'IKEA e rifarli uguali. Va bene quello va bene perché comunque hai possibilità di ricreare qualcosa che è una reference poi magari ci aggiungi del tuo invece di metterci la tazza bianca ci metti la tazza nera magari invece di modellarsi il seggiolino in plastica attaccato al tavolo lo fai che è a stazione cioè nel senso come una seduta oppure sulla sedia ed è di un altro materiale sono tutti quei piccoli dettagli che fanno la differenza e fanno capire che uno si è impegnato nel fare qualcosa di diverso e quindi è una persona anche smart che può fare qualcosa di diverso rispetto ad altri e quindi non ha preso un tutorial una guida l'ha letta a pappagallo e l'ha rifatta. Per i reel vale la stessa identica cosa con l'aggravante e qui dico aggravante che spesso chi fa i reel la prima cosa a cui pensa è quale musica metto in realtà chi guarda il vostro reel mettiamo caso che gli arrivano 100 o 200 reel al giorno quindi 100 o 200 application secondo voi la musica sarà così importante? Non credo assolutamente no quindi è importante fare un reel che abbia innanzitutto la lunghezza e solitamente tutti guardano solo i primi 30 secondi se nei primi 30 secondi che poi in realtà sono 2 3 5 secondi c'è qualcosa che mi prende allora il posto è già mio o comunque ho già un posto dove sedermi per poter fare un colloquio anche se è virtuale ho già comunque un incontro ho già qualcosa in più rispetto a quello che magari mostra il test fatto seguendo il tutorial del famoso FX Artist che fa vedere la simulazione di acqua che entra in casa è un po' imbarazzante è un po' imbarazzante perché magari è un tutorial che hanno visto tutti e ci sono altre 100 persone che l'hanno fatto magari chi il recruitment che lo guarderà non l'avrà visto però magari sarà un elemento importante quello di capire che bisogna fare qualcosa di diverso qualcosa che comunque attiri realmente l'attenzione e quindi solitamente si mette il miglior lavoro che non sempre il miglior lavoro è quello che piace a noi o è quello fatto bene ma si mette specialmente anche nei portfogli il miglior lavoro come primo ok quello che dà più effetto quello che veramente uno lo guarda e scusate il termine molto maschilista e si bagna ok nel nel vederlo e poi si mette il resto si mette il resto andando a scendere di qualità ovviamente il primo lavoro che uno fa sarà più brutto il secondo sarà migliore il terzo e così via quindi sarà una crescita e non si può pensare che dall'oggi al domani uno inizia subito a lavorare facendo delle cose fighissime ok ci vuole del tempo logicamente e la cosa tornando sulla questione dei tutorial che è un argomento sul quale ci tengo molto come sicuramente avrete capito spesso io faccio un tutorial lo salvo e poi riparto da capo e lo rifaccio due o tre volte perché in questo modo sono sicuro magari con tecniche anche differenti con cose con elementi differenti sono sicuro di apprendere quello che vado a studiare e quindi apprendendo quello che vado a studiare ho la possibilità di mettere di far sì che la conoscenza sia mia quando la conoscenza è mia ho la possibilità poi di crescere di più sito internet è importante come ho detto prima secondo me avere un sito internet e logicamente qui si ritorna a parlare anche della questione reputazione ok quello che voi mettete online che voi avete online anche sul vostro profilo di facebook ora io parlo di facebook perché è il social network che io utilizzo di più ok e se mi avete tra gli amici noterete che a parte a postare le news dei corsi che faccio a parte a condividere magari delle cose abbastanza serie però condivido anche delle cose stupide ok perché per me ho uno spazio dove non devo postare un lavoro per far vedere quanto sono bello al mondo esterno non devo postare un lavoro per cercare nuovi clienti è un luogo per me ludico è un luogo dove io posso postare determinate cose logico che non andrò mai a mettere magari qualcosa di troppo estremista perché perché il recruitment o comunque il vostro possibile cliente un giro online oggi lo fa lo guarda il vostro profilo facebook lo guarda il vostro profilo di linkedin e se voi mettete pubbliche le foto di voi al mare con 5 o 6 donne magari dovete lavorare con uno di Dubai e non gli piace vedere le donne con le tette di fuori o voi a petto nudo perché magari siete anche un panzone è naturale che perdete un po' di punti o comunque l'immagine che noi diamo di noi online è quella che solitamente le persone si ricordano di più dai social network quindi l'immagine che voi date tramite un social network con un profilo pubblico ok perché poi con quello privato ovvero con un profilo accessibile solo dai amici bisogna stare anche attenti anche in quel caso però solitamente uno quando ti accetta con amicizia o sei uno che accetta tutti e se ne frega oppure è naturale che uno cerchi un attimino di indirizzare il proprio profilo in un modo che sia un pochino più moderato o sia come dire accattivante per il cliente o comunque che non faccia vedere determinati aspetti di una persona ora io spero che ognuno di noi io qui lo dico poi spero di non offendere nessuno ma io ho tolto delle persone dal mio dalla mia lista di amici persone che conoscevo per lavoro che ho conosciuto a delle fiere in giro così perché onestamente c'erano dei contenuti di stampo politico estremista di una certa fazione che mi davano personalmente cioè mi davano personalmente fastidio e quindi ho deciso di eliminare e io sono una persona che comunque non non è che gli chiamava per dei lavori ok non è che gli chiamava per poterli offrire comunque un lavoro e quindi ingaggiarli nella propria agenzia sono una persona qualunque di conseguenza secondo voi questa persona qua che mette pubblicamente delle foto di una certa tipologia di forma politica molto discutibile che andava negli anni 40 secondo voi quanti clienti se i suoi clienti ovviamente o non la pensano allo stesso modo oppure non guardano il suo profilo quanti clienti o possibili clienti perde secondo me tanti perché è un'immagine che lui che questa persona dà nei confronti del mondo ok quindi online secondo me un sito web e poi su dei siti mirati come ad esempio dico uno Art Station CG Society 3D Total sono tutti dei siti che permettono anche di avere una galleria permettono oppure come si chiamava Evermotion sono dei siti specialmente alcuni sull'architettonico che permettono di avere una galleria di postare e di avere una divulgazione gratuita perché poi ricordiamoci che a volte è molto difficile trovare le possibilità di avere anche degli accessi gratuiti rispetto ad altre situazioni in tutto il mondo ok Facebook ok LinkedIn che ci dà la possibilità di accedere a tutto ma un sito di settore come Art Station che ci sono dei modelli da paura penso che tutti noi lo conosciamo dà comunque un accesso diretto a un mondo intero quindi gli dà la possibilità di potervi pubblicizzare e avere un eco molto elevato quindi secondo me un buon sito internet e un portfoglio online anche su questi siti può essere una chiave vincente sia per creare una reputazione sia per farvi conoscere e sia anche per prendere volendo dei contatti prendere volendo dei suggerimenti e migliorarci nel tempo di conoscere